La priorità sarà l'intervento sul Baganza, sulle casse di espansione, peraltro c'è già uno stanziamento e quindi si tratta adesso con la nuova Presidenza, dopo di accelerare, fare in modo che ci sia un intervento che risolva definitivamente il rischio di quello che è già accaduto. Per quanto riguarda la parte qui invece su Parma, anche sulle ultime polemiche, mi pare che sia utile adesso aspettare i chiarimenti, a partire anche dall'amministrazione comunale rispetto a quello che è accaduto sulle procedure. Sono venuto la scorsa settimana al convegno del PD a Fornovo per dire davanti al Vice Ministro Nancini che c'è tutta l'intenzione di provare con le regioni Liguria e Toscana a indicare il raddoppio della Pontremolese come priorità nei prossimi anni, perché io credo che il raddoppio di quel binario vorrebbe dire facilitazione di trasporto, di aumento del trasporto sia dei passeggeri, in particolare i pendolari, ma anche l'aumento del trasporto su merci, togliendolo dalla gomma. Dall'altra parte, per quanto riguarda l'aeroporto, il tema vero è quello di capire le potenzialità di uno scalo, che secondo me le ha, ci sono tutte, va specializzato e c'è da augurarsi che interventi anche di privati possano fare in modo che questo rimanga uno, ma come io sono convinto rimarrà, dei quattro aeroporti della regione Emilia-Romagna. I tagli per la verità non ci sono ancora stati perché la legge di stabilità non è stata approvata, c'è stato un incontro della conferenza dei presidenti col governo. Io ho detto che se si chiede a tutti di fare la propria parte perché c'è bisogno di liberare risorse per far ripartire il paese e mi pare che in questo momento la prima cosa da fare è far tornare a girare l'economia, a ricreare le condizioni perché ci sia occupazione. Peraltro io condivido due scelte molto chiare, una è quella del taglio dell'IRAP per le imprese, cioè l'intervento sul costo del lavoro, e dall'altro la stabilizzazione degli 80 euro per circa 11 milioni di persone che guadagnando meno di 1500 euro al mese hanno il diritto e la necessità di avere una garanzia che anche nei prossimi anni riceveranno un contributo che a mio parere nel medio periodo servirà anche a far ripartire i consumi. Dall'altra parte le regioni hanno il dovere anche loro di fare la propria parte se vi è chiesto un sacrificio. Quello che io ho chiesto è che non siano tagli lineari, cioè che se avverranno tagli si vada a vedere nel merito le regioni che hanno investito bene quelle che hanno sprecato, quelle che sono virtuose e quelle no, e io credo che lì la regione Emilia Romagna abbia delle carte da spendere molto importanti. Ho l'impressione che dati alla mano quella soluzione non abbia portato i risultati previsti. E allora siccome a me interessano un po' gli slogan o le medaglie da puntarsi al petto per dire ho fatto qualcosa, bisogna andare a verificare nel merito se quella scelta sia stata davvero produttiva. Io credo non sia un tabù immaginare che i blocchi del giovedì, se verrà riconosciuto che non sono serviti a molto, sostituirli con altre misure e su questo bisognerà ovviamente discutere. Quello che mi interessa è che si faccia davvero una lotta e si prendano provvedimenti per diminuire l'inquinamento. Se alcune misure non hanno dato i frutti sperati, io sono sempre dell'avviso che pragmaticamente si cercano vie alternative e si lasciano quelle che non hanno dato risultati sperati.